Buongiorno, sono qui a presentare il sito della scuola dell'infanzia di Ciconico. Il sito è pensato secondo le seguenti sezioni, home, giochi, storie, muoviamoci, videochiamate. La prima pagina, che è la pagina home, presenta la scuola, sia per quanto riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda le attività che di volta in volta vedrete scorrere nelle diverse foto. Alcune foto esemplificative vi mostreranno quello che stiamo facendo in questo particolare momento e alcune delle attività riassuntive dei temi che stiamo trattando, per esempio quelli stagionali. Nella sezione giochi potrete trovare tutte le attività che permettono ai bambini di comporre dei piccoli manufatti, che permettono di scaricare e far compilare ai vostri bimbi delle attività, oppure che danno le indicazioni per costruire. In questa sezione metteremo anche delle attività di tipo logico-matematico. Nella terza sezione storie potete vedere che ci sono filastrocche, come per esempio indovine e indovinello, che avete ricevuto, oppure storie. Nel corso dei mesi troverete anche delle storie in friulano e delle storie in inglese e delle attività relative alle parole. Nella quarta sezione, muoviamoci, potrete trovare dei canti, delle canzoni o delle filastrocche dove i bambini potranno imitare i movimenti, potranno con noi cantare e potranno imparare tante nuove canzoni. In questa sezione troverete tutte le cose che aiuteranno i bambini a muoversi e a fare delle piccole attività di movimento. Nell'ultima sezione, che è la sezione delle videochiamate, troverete i link utili quando dovrete fare i colloqui insieme alle insegnanti. Le sezioni sono due, i link sono due, quindi farfalle gialle e farfalle azzurre. Cliccando sull'icona si aprirà il Meet, quindi la videoconferenza, che vi darà la possibilità di partecipare, schiacciando su Partecipa, al colloquio con le insegnanti. Al momento opportuno le insegnanti vi ammetteranno a questa videoconferenza e quindi potrete con loro svolgere il colloquio. Come vedete, il sito è stato pensato non per specifiche età, ma è stato pensato perché ciascun bambino possa scegliere in modo spontaneo e secondo le proprie inclinazioni le attività che vuole fare. Grazie a tutti, alla prossima!